Dopo tre anni di stop a causa del Covid, torna il viaggio della memoria Ebensee e Mauthausen. Con esso, il progetto di comunicare, per non dimenticare, è rivolto alle scuole superiori pratesi per selezionare dieci studenti che potranno prendervi parte. Realizzato dal Museo della Deportazione e della Resistenza, in collaborazione con il Comune di Prato, l'Associazione per il Gemellaggio Prato-Ebensee e ANED, il progetto è giunto all'ottava edizione e permette ai ragazzi di approcciarsi a questa terribile pagina della nostra storia, in particolare la deportazione pratese, utilizzando nuovi strumenti comunicativi per raccontarla. C'è chi ha fatto dei video di una danza, c'è chi ha utilizzato strumenti musicali, chi invece ha preferito affrontare questa tematica in modo, diciamo così, più storico e scientifico, anche attraverso la realizzazione di PowerPoint che permettessero ai ragazzi e ai compagni di vedere come venivano utilizzate le varie tecnologie all'epoca all'avanguardia nei campi di concentramento. I dieci elaborati più significativi e incisivi, esaminati da una commissione tecnica, vinceranno la partecipazione al viaggio che si terrà dal 4 all'8 maggio prossimi in occasione dell'anniversario della liberazione dei campi di concentramento di Ebensee e Mauthausen. Sono curiosi, la storia è per loro una fonte di interesse, per cui iniziative come queste sono per noi importanti anche per tramandare le cose che sono successe. Al viaggio parteciperà anche una delegazione composta da alcuni studenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Saranno 8 studenti di terza media accompagnati da alcuni insegnanti per un totale di 12 persone. In questo modo facciamo vivere in maniera anche originale e innovativa la tradizione della memoria, i valori legati alle celebrazioni e alle liberazioni dei campi di concentramento, diffondendoli presso le giovani generazioni. Grazie a tutti. chil'è?